Ben ritrovati cari amici e come leggete anche dal titolo annuncio con sorpresa che oltre adesso alla sorpresa nel presentarvi Tommy Forzi, il nostro nuovo amico Orsetto, la grande novità che diciamo veste già da qualche giorno di questa settimana quando riguarda la corsaro family dell'allargamento ancora di più del team lavorativo con una giunta come noi anche già colleghi presenti che operiamo già professionali quindi salutiamo la no arrivata Alessandra, vi ricordo che ci trovate alla sede principale dal lunedì al venerdì lunedì, mercoledì, venerdì, orario solo mattutino, diciamo dalle prime ore dell'alba quindi più o meno 7, 7 e 15 fino alle 13 e 15, 13 e 30 e i rientri pomeridiani al martedì a giovedì, orario continuato quindi dal mattino presto fino alle ore 17 circa ma oltre appunto all'annunciazione del nuovo innesto nel team lavorativo di Alessandra che magari per i miei amici social avete potuto vedere la nostra foto di gruppo quest'oggi che eravamo al Biblio Bar Caffè Corsaro praticamente già vi anticipo però ufficiosamente ma poi ci sarà comunque un annuncio che sia via social o via clip con data, giorno, location è rinnovato anche quest'oggi che è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con i mercatini natalizi corsari 2024 l'unica anticipazione che possiamo darvi al momento che almeno a scanso di cambiamenti all'ultimo momento non si terranno quest'anno di domenica ma in settimana è un'altra piccola aggiunta che possiamo dare quindi sfruttando un rientro pomeridiano quindi rimanete sintonizzati, rimanete connessi perché anche il nostro qui Tommy Fozzi vi comunicherà il tutto e niente noi ci vediamo alle prossime occasioni quindi senza dimenticare ovviamente anche uno spunto promozionale per il Biblio Bar Caffè Corsaro aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì sicuro al 100% sabato credo dovrebbe essere anche a parto orario 9.13.30 circa solo un mattino questo da circa qualche settimana a questa parte va bene noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti ciao ciao